Sono 21 le interrogazioni sui temi di attualità trattate nella sessione di maggio dei lavori del Consiglio Provinciale di Bolzano. Riguardavano tra l'altro la mobilità, i problemi nella sanità e i green bonds al Peria. Dopo averle trattate, il Plenum ha designato il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio per la Formazione Politica e la Partecipazione, che è composto da un componente o una componente di ciascun gruppo consigliare. Accolta una mozione del Gruppo Verde per affrontare il gender gap retributivo e sensibilizzare sul tema, respinta una mozione del Partito Democratico per adeguare l'assegno di cura agli stipendi delle badanti, una della City Roller Freiheit per realizzare servizi igienici pubblici sulle piste ciclabili e un voto dello stesso gruppo per introdurre misure contro i rincari. Discussa anche una mozione del Team K per la liquidazione immediata dei contributi per l'edilizia abitativa agevolata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi essere�로